Luca Penzo, vedi, giocare sempre in un ambiente ben illuminato, tu quando è che giochi? In gabinetto tutto. Fare pause regolari di circa 15 minuti. Come fai a giocare in gabinetto con la Playstation? 15 minuti ogni ora. Beh, il Saracino, sai chi è. Ma che, te sto chiedendo a te, Luca Penzo. Ma stiamo parlando di te. No, 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 non ci giochi in gabinetto. E allora perché mi hai risposto in gabinetto? Testa di cazzo! Comunque, il Saracino. Tu hai mai riscorso, vero, sì. No, non so che cazzo sia sto Saracino. E' con l'era che si è candidato da solo come rappresentante dell'istituto. Ah, con l'era matto. E' una... Alla televisione in bagno. E allora, saresti bravo a farla anche tu, sta? Io sono BrossMario139 dei ReaperGamers, ciao a tutti ragazzi. Io sono Tecnologi9 dei ReaperGamers, ciao a tutti. E io sono il padrone di sto canale e tu stai zitto. Va bene, andiamo avanti. Perfetto. Mi piace quando fai così. Idem. Scegliamo il nome che ci ispira di più. Perché alla fine non si capisce niente. Prendesia carceraria. Lunatici riuniti. Schiuma marina. Crollo finanziario. Ma che no, ma che no mi sono. Disinfestazione. Ma sembra che io abbia traduto comunque il traduttore. No. Terapia dello shopping. Ma cos'è sta roba? Stretta del credito. Ponte verso il nulla. Questo è anche carino e filosofico. Caduta libera, vada. Cambia veicolo. Scegliete Your Vehicle. Vediamo se c'è la Naked. Intanto si pronuncia Naked. Nudo di merda. Non c'è un Liberty. Io mi prendo il tir perché sono Optimus Prime. Bene. Perché c'è anche il quarto schermo però. Sarà una roba random. Non c'è qualcuno. Cambierà sempre. Ma no, è solo una roba. Ma chi sono io? Perché ho una visuale? Perché ho una visuale così? Ma si può cadere dalla moto? Mi abbanditi dalle palle. Ah, sì che puoi cadere dalla moto. Ah, il turbo ce l'avete sempre. Posso dare anche i pugni ad altri moto. E certo. Ma per io dove sto andando? Ma ti ho detto che se lo usi troppo esplodi. Scherzo, mi ha fatto rubartare la moto. Quindi se uso troppo il turbo esplode. Ma te l'ho detto cretino. Ma cambia il visuale perché sono troppo grosso. Sì, so che ce l'ho grosso, a te piace. Perché porca. Come fai se vuoi essere secondo, madonna? No, adesso sono un bicicletta. Eh, è il solito culo che ha. Forte è il principiante. Quadrato e circhio servono tipo per dare i pugni. Eh, ho visto. Quali canzoni sono? Ma tu in macchina non puoi. Perché cado tempo? Ti ho superato. Tu non puoi dare i pugni in macchina. Eh, fa tipo una mini sbandata. Eh, ti ho... Sono primo, non so. Ma basta! Io sono terzo e adesso ti supero perché... Va bene tutto ma non accetto che Tecnologi 9 sia più bravo. Sono caduto quattro volte di fila. Voi premete R1 e mettetevi la visuale in prima persona. No, no. Sì, sì, voglio comitare. Sono secondo. Ah, ah. Secondo non so come. Cioè io muoio. Il posto di andare ultimo. Adesso, mamma se ti prende ti do un bel pugnazzo. Sono sui tetti, Dio. Dio. No. Oh, secondo. Terzo. Io faccio schifo. E poteva arrivare neanche il primo. Adesso, no, che be. Oscar Zero. Che cazzo è Oscar Zero? Kid Million, Ratfo... Cigo per Ratti. Stone. Pietra. Pietra. Psycho Billy. Ma sono nomi a casa. Eh sì che sono nomi a casa, dai. No, ti pare che c'è qualcuno che si chiama Pietra? Può essere. A meno che non sia tu. Che cosa c'è? Ora scegliamo un'altra gara. Come la mappa. Stavolta, scegliere il nostro bros. Quello brutto. Dita. Siccome Tecnologi è quello bello. Ma è ovvio. Intanto, questa è casa mia. Evitiamo queste bestemmie. Evitiamo queste bestemmie, per favore. No, 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 no. Evitiamo. Andiamo avanti, dai. Onde mutilanti. Dica. Sto gioco una crisi totale per andare in giro. Eh sì. Si chiama Apocalypse per un motivo, eh. Io mi tango le anacche. Io lo ho liberto, non c'è. Io mi prendo... Squirtle, pronto. Perché ti tiene un dito in quella maniera? Quelli che non vedono, sembra che faccia roba porca. Sì, ma io te le sto chiedendo a te. Sono povero, non ho una webcam. Che ho detto portavo e a GoPro. Non volendo si può registrare con il telefono. Ma ma tu sei quello. Registriamo col telefono. Ma sappiamo il telefono che fa VD4K. Mi faccio il culo stavolta. Perché? Non lo so. Non fa il turbo. E ti ha conto la rovessa. Crettino. Qua siete fortunati perché piove, allora il turbo si raffredda più velocemente. Sono primo. A parte che ti faccia il segnetto del ghiaccio. Sono pinto. Appunto, perché si sta raffreddando. Ma tu dove ce l'hai le orecchie? Secondo, chi è primo? Io. Gli ho detto che faccio il fuoco. Ho preso fuoco e sono andato in acqua. Sono andato a finire da sul palio. Sono ancora primo. No. Mamma. C'è un coso del computer che mi sta uccidendo. Un coso del computer. E come lo devo chiamare? Io vado addosso a tutto se per questo. Oddio. Sì, ci ho superato. Sarà primo dove devo andare. No, il tiro mi ha schiacciato. E quello lì è un bastardo. E' un verde. Eh sì, anche a me. Mi ha buttato addosso. È una casa. Sì, no, no. Io sono terzo. Ottavo. Vai, il tiro di merda. No. No. Ti sei messo in mezzo. Ti sei venuto addosso. E' bello che tu hai proprio l'omino che parte via. È partito l'omino per la rampa. Viene che aspettare prima di rientrare in gara e vedere che fine vado proprio. Oddio. Dove cazzo sono finito? No. Eh, ci sono bug. Ok. Cioè, penso che la roba più bella sia vedere il mio amino che parte via quando vuoi. Ecco, mi sa che ti ho appena superato. Eh sì, infatti. Sono saltato e mi ha voluto via dalla moto questo. Vabbè. Dai, dai, dai. Oh, oh. No. Sì. No. Che cazzo è quello là? Io. Che sono anche andato in ancora. Bravo, è la... Continua così, per favore. No, anch'io. No, io non ho saltato. Ma chi è primo? È il tir verde. Ancora lui. Vaffanculo. Lampione inutile. Sono primo. Dai, oh. Sono secondo sto tir di merda. Cade roba. Comunque mi sa che il vincitore di questa partita è il tir. Eh sì. Guarda. Basta, no. Anche te lì. Madonna mia, vi ho i su... Boh. Inangolito. Secondo. Indovinate il terzo. Il tir. Infatti. Guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Guarda, anche il tir bastardo. Adesso ti ha buttato in acqua. Ma quello è stato primo dall'inizio alla fine della gara. Che cazzo. Mi sa che mi trovo la fine vicina. Hai visto che un bel nome. Anche, vale la stessa cosa anche per te, Tecno. La tua fine è vicina. Non si augura la morte a nessuno. Mettiamo che la tua fine è, che ne so, che la tua anima scompare ma il tuo corpo vive, quindi tu vivrai in questo limbo di eterno nulla. Perché tu non sei mica morto. Ma perché ti fai ste pippe mentali? Non è una pippa mentale, è una cosa normale. No, non è niente vero. Eh, per spiegare come potrebbe essere inconsiderato quel fine. Sì, sì, sì. Ponte verso il nulla. Eh, vai. Che enorme tipo da morte. Eh, è giusto per la tua fine. Bene. Sembra una bella giornata. Eh, infatti. Mi sa che accadrà di tutto e di più. Dici. Il monte, questo ponte, poi. Mi vado a schiantare anche per me. Io sono andato in acqua. Oh. Sono già andato verso il nulla. E stavolta il primo è un monster trucker, quindi ho paura. No. Basta che non sia verde, è anche quello. Mmm, ha le ruote verdi. C'è un elicottero che si sta avvalzando in volo, non so cosa sta succedendo. Non è che bombardano la città. Spero di no. Infatti spero anche io. Io in tua mano sono avanti. Dio, l'acqua. Se vi trovo, giuro che vi faccio la sbandata quella per uccidermi. Ma ve la faccio anche di violenza. Tipo, questo qua davanti, chi è? Te i tecnologi, salve. No, io sono primo. No, sono esploso, lascia stare. Perché non ti schianti? Sì, vabbè, sono a tolto di carte. Vada, cavate. Come ho fatto a schiantarmi? Bravo, bravo, continua così. No, vai che tecnologi. No! Perché ci sono elicotteri? Eh, sì. Ah, io non li vedo, ci elicotteri. C'erano prima. No, mi vien da vomitare. C'è tutto il schermo che si muove. Dai, li sono in culo a Monster Truck. Guarda, cavate. Cioè, non è possibile che ho fatto a bombardare a Monster Truck. Va che sto venendo a prenderti. Sono terzo, tu sei... Porco, ma basta. Ogni volta che lo dico, muoio. Non dirlo più, vai. Immaginate di fare tipo la sfida. bevi un bicchiere di whisky ogni volta che mori sto gioco. Ma che figo che sarebbe. Se muoio un'altra volta picchio. Technology. No, perché hai mai a mia... Hai la tua destra. Eh, se no chi picchio? A mia sinistra sei l'armadio. Picchio l'armadio. Sì, mi faccio male. Official Guest. Cazzo l'ultimo giro. Ma di pochissimo mi prendeva fuoco tutto. Potevi invece prendere fuoco e ci facevi in favore. Che posizione siete? Eh, quarto. Io quinto. Salve. Chi adesso ti vengo a prendere? No. Non ce la fai. Ma dite sempre ti vengo a prendere. Eh sì. E cosa devo dire? Ti lascio là. No, sono caduto. Devo dire ti lascio là. Vincere, non so. La pace è prima di tu. Ebbè, mi sa che ormai ha vinto il nostro technology. Oh, hai manco una. No. Non va per niente bene. No, c'è. Chi ormai o no, avessi vinto io. Ma c'è quando sei arrivato? Come cazzo hai fatto? Olè. C'è arrivato? Va, va, io mi son fermato così. Haha, sfigai. Sfigai dovrei dire a tua mamma. Sì, va bene, la trovavi in mezzo. Oh, io ho fatto il culo. Questa volta non ho fatto male. Flame Boy. Oh, Wither. Six. Bell' nome, Six. Io sono il più figo. Sì, noi esageriamo adesso. Adesso ti faccio il culo tantissimo. No, no, perché mi devi fare il culo? Perché ho detto se muoio picchio Luca Penzo. In realtà è technology 9. Beh, anche Brock ti dà una mano a picchiare technology. Sei proprio technology. No, mamma di testa, no. Si sente. No. Tomani, chi sei? Ah, 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 ah. Ma aspetta, ma è lo spettro della voce. Cosa? Si vede lo spettro della voce. E lo salutiamo. Ciao.